È una grande occasione che stiamo vivendo perché abbiamo portato la Madonna di Fatima che è arrivata ieri accolta solennemente in Basilica in un suo tour nazionale e l'Unitalsi che ha messo in azione questo tipo di viaggio e di peregrinaggio di Maria anche dalle nostre parti. Ieri c'è stata una solenne funzione d'accoglienza, molto partecipata, molto seguita e oggi abbiamo pensato di portarla qui in questa casa di De Genti, la casa di Betlemme perché l'incontro con tutta questa popolazione anziana e anche sofferente fosse un'occasione proprio congrua per poter parlare di Maria, accettare che Maria visiti e incontri ed essere incontrata da questo mondo che sicuramente l'aspetta con fede e con grande attenzione. È anche l'occasione per fare il Giubileo, è l'anno della misericordia, quindi con Maria qui in questa casa. Il nome Betlemme richiama anche la grande casa dove il Cristo è nato, dove Maria ha partorito il Cristo e quindi c'è tutta una serie di significati e di rimandi interessanti e stimolanti. Questo pomeriggio alle 16.30 il Rosario, seguito dalla Santa Messa celebrata da Monsignor Vescovo Guglielmo, un'altra occasione per stare insieme a Maria e permettere alla popolazione proprio di lasciarsi visitare dalla Mare di Dio. Domani mattina un'altra occasione di Giubileo con Maria perché ci sarà il Giubileo dell'Istituto di Nostra Signora della Misericordia di Via Verdi. Abbiamo preparato tutta quanta la popolazione sia scolastica che degli insegnanti e ci sarà un pellegrinaggio alla Porta Santa di tutto l'Istituto e poi l'attraversamento e l'incontro con Maria. Questo è un po' il programma di tutta quanta la presenza di Maria in mezzo a noi. Siamo due sorelle dell'Unitalsi e quest'anno nell'occasione del centenario dell'apparizione della Madonna ai tre pastorelli di Fatima l'Unitalsi ha voluto che una coppia della Madonna di Fatima arrivasse anche in Italia. È arrivata il mese di ottobre ed è andata in San Pietro ed è stata benedetta da Papa Francesco. Poi ha proseguito il viaggio per tutte le sezioni dell'Unitalsi in tutta l'Italia e ora sta terminando perché è arrivata dal Piemonte, è arrivata a noi, fa tutta la Liguria dove ci sono appunto le sezioni dell'Unitalsi, Finale, Savona, Genova, Chiavari, La Spezia e poi verranno a prenderla dalla Sardegna e poi ritornerà a Fatima. Per noi è una grande gioia averla qua ad Imperia e aver potuto partecipare a queste funzioni.